Allora, ciao a tutti, in primis grazie, grazie a Platform, grazie a tutti voi perché la metà delle slide la dovrete immaginare e quindi confido in voi perché le metà delle mie slide sono molto chiare. Ringrazio l'impianto dell'aria condizionata che pettina il mio sistema nervoso da prima. In realtà io sono una designer, ho lo studio da sei anni, principalmente mi occupo di queste aree tematiche, prodotto per aziende, super aziende che supportano anche designer, che ringrazio, per aziende, gallerie, installazioni, interior e poi mi occupo di docenza alla nuova Accademia di Belle Arti di social design e rigenerazione urbana, come fare coprogettazione e progetti condivisi per le periferie e le comunità. Però oggi volevo parlarvi di una cosa che in questi giorni ho molto sperimentato con questa Design City Milano che voleva essere un momento un po' di rianimazione tachicardica dopo questi mesi di arrancamento. e la cosa secondo me nel mio lavoro è la formula del porsi molte domande, cioè di restare nel quesito, di abitare nel quesito. Secondo me questi momenti di crisi sono anche formule magiche per andare anche molto più in profondità nelle viscere, nei dubbi che ci si vuole porre e nelle ossessioni, perché a mio avviso una progettazione nasce sempre da una forma di ossessione. La cosa è anche essere in contatto con il proprio presente, cioè cosa sta succedendo, come io mi rapporto al mio presente, come io entro e interagisco con lui. Allora, cosa è successo? In questa settimana della Design City Milano due distretti mi chiedono appunto di formulare una progettazione per loro quindi abbiamo cinque vie distretto all'interno, dietro via Torino, Santa Marta, quindi pieno centro di Milano e Tortona, la torneria Tortona che mi chiede di fare un'altra progettazione per loro. Ecco, in questo momento di forte bulimia digitale, perché siamo iperconnessi, ipercontrollati, perché le nostre calorie, la nostra tachicardia, la nostra febbre, l'appimmuni, il credito sociale cinese, quanto noi veniamo costantemente mappati e quanto noi siamo continuamente in linea, nell'online. Allora mi interessava creare uno simoro progettuale, mi interessava riflettere su questa cosa, no? Abbiamo la vendita dei dati di Facebook, ci sono tutta una serie di guerre digitali che stiamo iniziando a vivere. Allora ho detto, perché non formulare una no signal zone? Sono immaginata che le guerre del futuro le combatteremo con dei click, con degli altri click digitali in cui possiamo configurare delle zone violace che interrompono la connessione con i nostri cari satelliti. Però diciamo che in questa no signal zone, in cui ci sono tutti questi occhi dell'ipercontrollo, George Orwell insomma ce ne diceva quattro con il grande fratello, le persone potessero formulare come se fosse una domanda. Io dicevo, posso regalarti la disconnessione? Ecco, in questa dinamica di fisico contro digitale, del fatto di rendersi irreperibili, in realtà la parte più sapida, a mio avviso, era il fatto, quindi, le persone potevano attivare anche con dei filtri Instagram, sia delle architetture della non connessione fisiche e spaziali. A me divertiva questo, a me divertiva questo che praticamente è stata la mia installazione più fotografata in assoluto e mi divertiva moltissimo questo ossimolo, questo paradosso, in cui in realtà siamo terribilmente connessi, terribilmente non capaci di sparire a livello digitale, perché esistiamo a livello digitale, i nostri progetti, molti esistono perché sono lì, non perché siano stati visti nell'effettivo da qualcuno. E allora era interessante questo, che iniziavo a ricevere tutti questi selfie, queste foto, questi immaginari, in cui le persone fotografavano ed esistevano perché fotografavano quella cosa, esistevano perché avevano un profilo. E allora da lì il pensiero. Quindi, dunque, quando noi ci attacchiamo al fatto di essere contro qualcosa o in una lotta contro qualcosa, eppure contro cosa stiamo lottando, dato che ne siamo terribilmente dentro, allora forse bisogna un po' ricomprendere questi perimetri di fisico e digitale. Ecco, questo era un po', siamo davvero pronti a sparire? Cosa significa? La cosa interessante è, avevo questa installazione in Cinque Vie, nel frattempo in Via Tortona mi ero totalmente spostata su un'altra dinamica, appunto un po' più sociale, politica, di questo distanziamento sociale. Come vi dicevo, sono insegnante e ora ci sono anche tutte queste formule in cui devo fare tantissimo insegnamento digitale, insegnando social design, solitamente porto i ragazzi a lavorare nelle portinerie, però manca tutto quel rapporto fisico e la cosa che mi viene da dire è, nei ristoranti sì, la cultura no. No, e allora a me questa cosa un po' da fastidio, allora se io devo fare qualcosa mi metto lì e faccio un crocevia, il crocevia è un luogo, faccio questa installazione e per quattro giorni sposto lo studio, eravamo io, i due ragazzi, studio stupendi, apriamo, per quattro giorni ci mettiamo lì per chiacchierare con le persone, nel crocevia appunto è quel luogo che noi per millenni abbiamo creato pellegrinaggi devozionali per andare da un luogo a Gerusalemme, a Roma e nei mesi che intercorrevano per arrivare all'obiettivo ci si incrociava in dei crocevia, si accendevano i focolari e lì le persone si scambiavano informazioni, si creavano sinergie, allora per me era importante riproporre il fatto che con una certa casualità, senza nessun calendario programmato, infatti la proprietaria del posto aveva un attimo di, anche lei, movimento sul sultorio del cuore, ho aperto questo spazio pieno di simboli per creare racconto, condivisione, incontro, pellegrinaggio, con tutte le dinamiche che ovviamente dobbiamo rispettare del contagio, del caro contagio da mascherina e quant'altro. Io credo molto nel potere del simbolo, nel segno che ti comunica delle cose, c'erano urobori, serpenti, simboli della rigenerazione, simboli del passaggio come le colonne d'Ercole, credo che le forme e i segni ti insegnino moltissimo. E questo è stato tutto invece la dinamica che si è creata, c'era un pianoforte perché appunto il mago ottonaro in realtà era anche cultore di pianoforte, quindi avevamo distribuito tutta una serie di cose, era una piazza e si sono create delle magie dell'incontro, chi suonava, chi leggeva poesie, Virginio Beratore che ci viene a trovare e a raccontare le storie perché lui è uno sherasad del design, ma c'era una ragazzina stupenda, è entrata dicendo stavo andando a cercare il wifi da base, però poi mi sono fermata qui perché stavamo facendo canti rinascimentali che non sapevo neanche che esistessero questi quattro ragazzi, hanno fatto canti rinascimentali, si è fermata e la mattina dopo ha fatto la sua cerimonia del tè perché tornava dopo otto mesi da Tokyo, una ragazza che è venuta e mi ha parlato della Repubblica di Abkhazia, sapevo neanche che esistesse tra la Georgia e la Russia, raccontando delle dinamiche e delle difficoltà. Ognuno ha portato, quindi per me era molto importante, tutti con mascherine, invece creare l'incontro, la strategia di stare insieme, anche i ragazzi bellissimi, il vostro monito di dire formuliamo sinergie, secondo me proprio questo, come Astrid che è venuta varie volte, il formulare una non distanza, il fatto di poter entrare in connessioni con occhi, sudore distanziato, ma comunque con le nostre viscere, secondo me è davvero molto importante. Quindi il distanziamento sociale, questo marketing contro cultura, perché ovviamente bisogna capire che non riesco veramente a capire perché i Barsi e io a scuola non ci possa andare, e il design come strumento sociale e anche politico, di prendere delle posizioni, secondo me è interessante. Quindi io vi ringrazio e quello che vi auguro con questo incontro è tanta criticità, perché secondo me porta a giovamento proprio nel riconfigurare la propria pelle. La criticità che serve è tanto antidoto culturale, perché la poesia ci salva sempre tutti. Grazie.